quasi ipotecato il mondiale di Formula 1 per Max Verstappen l'olandese della Red Bull capione del mondo uscente vince in maniera incredibile il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa partendo le retrovie insieme al ferrarista Leclerc penalizzati per aver cambiato la power unit l'olandese da quattordicesimo nel giro di sette giri si ritroverà terzo mentre il ferrarista Giacoforz non riesce a essere dello stesso turno Sainz con l'altra Ferrari per buona parte della gara era in testa ma la rimonta delle Red Bull non ha potuto consentire di arrivare almeno terzo così con altri punti in carniere Verstappen si avvia verso il secondo titolo sulla carta sembra già scritto ma le Rosse vogliono crederci ancora prossimo Gran Premio tra sette giorni in Olanda a Zandvoort